Un lavoro capillare e continuo nel nostro territorio è quello svolto dall'Associazione Volontari di Strada, diretta da Anna Marino, rivolto ai più debili, a meno ambienti, agli ultimi, a chi non si può muovere da casa, agli anziani, a chi è solo. Fatto anche nella giornata di ieri domenica, ma anche prima, i volontari di strada hanno distribuito beni di prima necessità, generali mentari, grazie anche al lavoro costante dei soci, è stata anche lanciata una campagna raccolta fondi, azioni che nobilitano chi le fa, come ci dice la responsabile Anna Marino, che ieri ha visto anche una presenza nazionale, portata ad esempio anche dalle reti Rai in tutto il nostro territorio. Qui ad Agrigento la situazione è veramente drammatica, che non ha mai avuto precedenti. Noi riceviamo quotidianamente telefonate di centinaia e centinaia di famiglie che ci chiedono aiuto, sentiamo le loro voci disperate, le grida dei bambini sottofondo. Qui è necessario un intervento subito da parte dello Stato. Ieri sera abbiamo visto la prima avvisaglia e speriamo che la cosa si concretizzi a più presto. Noi volontari di strada stiamo facendo il nostro possibile, nel nostro piccolo. Mi auguro veramente che intervengano tutti per tamponare e a dare soccorso a queste famiglie che mai come adesso si trovano in forte disagio e in forte difficoltà. Grazie a chi ci può dare una mano d'aiuto.